Mano Mano Oggi Francesco è felice perché la sua squadra ha vinto e perché il suo ordine su Mano Mano Pro sarà consegnato domani in cantiere. Con Mano Mano Pro ha accesso a più di 8 milioni di prodotti Pro a piccoli prezzi. A fargli assist ci pensano i nostri consulenti esperti e le offerte esclusive del nostro programma fedeltà. Oggi è una grande vittoria per Francesco perché con Mano Mano Pro facilita la sua attività e risparmia tempo. Mano Mano Molto tempo Grazie a tutti.